La Lega ha ottenuto una grande vittoria sulla responsabilità civile dei magistrati. Più che la Lega il buon senso dice che chi sbaglia paga anche se fa il giudice. Non esiste una casta di intoccabili, molti giudici si ritengono una casta di intoccabili al di sopra e al di fuori della legge. Se uno sbaglia paga. Qualunque lavoratore, dall'imbianchino al medico al politico, gli errori vengono fatti pagare. Non si capisce perché i magistrati invece debbano essere sopra tutto e tutti e il Partito Democratico li difenda, anzi forse si capisce perché. Nel frattempo altri sbarchi sulle nostre coste, qual è il suo commento? Mare Nostrum va fermata subito, è un'operazione demenziale che porta morte a chi parte e porta fame agli italiani che non ne possono più. Io sarò appositamente in Sicilia domenica e lunedì perché sarà la Lega a provare a fermare con tutte le energie possibili questi sbarchi perché stiamo assistendo a uno sconcio e il Partito Democratico è corresponsabile di ogni singolo morto e di ogni italiano che non mangia per colpa di questi sbarchi. Potrebbe essere Pascal Lami il futuro Presidente della Commissione Europea, lei cosa ne pensa? Follia, faremo le barricate. Questo signore è stato l'artefice della morte del commercio e dell'impresa in Europa nel nome del libero scambio, del mercato, del profitto, del denaro. Quindi se impongono la faccia dei cittadini che hanno votato, dei nomi che tirano fuori dal cappello, che rappresentano i grandi, le grandi multinazionali, le grandi imprese che hanno portato la fame e la disoccupazione che vediamo in Europa, noi gli spacchiamo un tavolo in testa.